Amici di Facebook, 6 febbraio, 6 marzo 2019, siamo qui sulla strada statale vicino la Basilica di Sipoto con l'auto di servizio, sto io con il tenente, il rispettore del capo per guardate qui c'è Ethernet, l'aste di Amiando, altamente pericolose, guardate, qui è una casa cantoniera, ecco qua, guardate, Amiando, altamente pericoloso, tossico adesso chiamiamo i carabinieri forestali, poi ci sono i rifiuti, a voi i commenti, ecco il dividete, qua siamo all'ingresso di Manfredonia